Grazie a tutti. La cosa che mi fa più riflettere in questo momento è anche forse con molta leggerezza e molta facilità. Parliamo di questi dati sulla disoccupazione. Spesso ci dimentichiamo che dietro alla freddezza dei numeri c'è invece anche la vita delle persone. Ci sono dei volti, ci sono delle biografie, ci sono delle vite in qualche modo bloccate ad uno stato difficile. Ci sono famiglie che non nascono, bambini che non nascono. C'è un futuro previdenziale che non viene costruito, quindi c'è anche un'Italia che da qui ai prossimi 30 anni sicuramente vivrà una situazione drammatica. Poi c'è anche una generazione in particolar modo che sta vivendo in maniera drammatica questo tema, il tema della disoccupazione giovanile, perché i giovani più di altri stanno pagando un prezzo molto alto. E' una generazione un po' di mezzo che oggi è costretta a vivere sulle spalle dei propri genitori, domani probabilmente sulle spalle dei propri figli. Il tema del lavoro deve essere il tema centrale per la crescita e lo sviluppo di questo Paese ed è da questo punto di vista necessario che il governo, la politica, le parti sociali, i corpi intermedi, che in generale tutti facciamo uno sforzo affinché ci si possa concentrare davvero nel dare priorità al lavoro per immaginare la crescita del nostro Paese. Secondo lei il governo riuscirà a frenare questa emoragia di posti di lavoro? Probabilmente anche un po' presto per dirlo. Noi ovviamente è necessario dare fiducia in qualche modo al governo, soprattutto da giovani, insomma, non bisogna mai rinunciare alla speranza. In questa fase credo che alcune misure vanno nella giusta direzione, penso al piano sulla garanzia giovane, così come è stato lanciato dal governo, così come è stato immaginato e promosso dall'Europa e oggi è attuato anche in Italia. Su altre questioni, siamo ancora nella fase del lancio, nella fase degli slogan, attendiamo di capire poi esattamente come invece si concretizzeranno le cose. Per quanto riguarda invece i cosiddetti sfiduciati, NIT, cosa si può fare? Aumenterà il numero degli sfiduciati se andremo comunque di questo passo? Di certo c'è un dato. Abbiamo lanciato il piano sulla garanzia giovane che è uno strumento proprio per dare un'opportunità di lavoro o di formazione ai giovani NIT che sono non soltanto i giovani fuori dai circuiti formativi piuttosto che fuori dal mercato del lavoro, ma sono appunto soprattutto giovani sfiduciati che probabilmente un lavoro non lo cercano più perché lo hanno fatto in passato, non sono riusciti e oggi sono sfiduciati. Il tema reale è che noi abbiamo lanciato il piano sulla garanzia giovani. Nulla è più grave che in qualche modo offrire un'illusione a chi è sfiduciato. Quindi c'è una grande responsabilità che sta in capo senza dubbio al governo ma anche a tutti i soggetti che in qualche modo hanno collaborato e collaborano per l'implementazione di questo piano e che si mettono a disposizione di questo piano. Io mi auguro ovviamente che i numeri, che questi due milioni rimangano tali e che ovviamente non aumentino. Mi auguro anzi al contrario che attraverso le misure che abbiamo immaginato, che il governo sta immaginando, possono in qualche modo diminuire. Ciò detto appunto la responsabilità più grande che sento come portavoce del forum, quindi di chi rappresenta comunque organizzazioni giovanili che hanno molto scommesso e che stanno davvero dando una mano al nostro governo per l'attuazione di questo piano e che davvero non si creino false illusioni in un momento in cui davvero non ce n'è bisogno. Grazie